Carissimi amici, ben ritrovati sul mio canale YouTube. Quest'oggi vi presento, a grande richiesta, un altro metodo Spia Speed. Attenzione a questi metodi Spia, perché ci porteranno tantissime soddisfazioni vincenti. Quindi consiglio vivamente a tutti voi di acquisire sempre i metodi completi per ambo sé. Ecco, perché come avete visto con il primo Spia Speed 29, siamo andati a vincere l'ambo secco 73-39 a Milano al secondo colpo. E trovate la testimonianza vincente proprio sul mio canale, uno degli ultimi video che vi ho portato sul mio canale. Abbiamo in gioco la Spia Speed 58 e oggi vi presento la Spia Speed 20. Dobbiamo attendere la sortita della Spia 20 sulle ruote di Napoli e Palermo, quindi o Napoli o Palermo o entrambe. Giocheremo sempre nei sei colpi, quindi metodi Spia molto rapidi. Faremo, ovviamente, dei calcoli per ottenere la nostra ambata e cinque abbinamenti ambo secco su due ruote per sei colpi. Oggi vi faccio vedere come al solito vi regalo il calcolo di ambata. Contattatemi come esempio ad indirizzo email che vi metto in descrizione per conoscere la modalità di acquisizione del metodo completo che vi consiglio. Perché anche qui abbiamo una previsione in gioco molto bella, proprio a partire dall'estrazione di domani, giovedì 29 ottobre. Cosa dobbiamo fare? Io mi sono segnato già alcuni casi Spia, poi voi potrete controllare a vostro piacimento anche altre situazioni. Mi sono già segnato ovviamente il calcolo di ambata e tutto così, diciamo, andiamo più veloci. Dovrete fare una semplice operazione. Quando trovate la Spia 20 dovete prendere il quinto estratto della ruota di Roma e sommare il fisso 72, quindi 7-2. Andiamo al 7 dicembre 2019. Notiamo come il 20 sia sortito a Napoli. Facendo il calcolo quinto di Roma più 72, otteniamo l'ambata 85. Al quinto colpo, 19 dicembre, le ruote, scusate, sono Palermo e Venezia. Quindi al quinto colpo, Venezia, ambata secca, 85. Andiamo alla situazione Spia del 14 dicembre. Guardate il 20 sulla ruota di Napoli. Quinto di Roma più 72 fa 81. Sesto colpo, 28 dicembre, 81 a Venezia. Andiamo al 28 dicembre. Spia 20, Napoli. Quinto di Roma più 72. Otteniamo l'ambata secca, 86. Primo colpo, 86 a Venezia. Guardate la potenza di quest'altro Spia Speed. Che cosa è? 16 gennaio 2020. Andiamo a vedere gennaio 2020. 16 gennaio 2020. Spia 20, Napoli. Quinto di Roma più 72. Ricaviamo l'ambata. L'ambata secca, 60. Palermo-Venezia. Otteniamo al sesto colpo, il 30 gennaio, il 60 a Venezia. 4 febbraio 2020. Ecco la Spia sulla ruota di Palermo. Quinto di Roma più 72. Otteniamo l'ambata secca, 84. Primo colpo, 84 a Venezia. Poi abbiamo un quarto colpo, 13 febbraio, 84 a Venezia. E poi abbiamo 18 febbraio, sesto colpo, abbiamo qui 84 a Venezia. Quindi un metodo che porta anche vincite multiple. 13 febbraio. Spia 20 sulla ruota di Napoli, scusate. Quinto di Roma più 72 per ricavare l'ambata. Quindi l'ambata secca, 52. Terzo colpo, 20 febbraio, 52 a Palermo. 15 febbraio. Spia 20, Palermo. Quinto di Roma più 72. Abbiamo l'ambata secca, 81. Quarto colpo, 81 a Palermo. Guardate che spilza di vincite in poche estrazioni. 14 marzo 2020. Spia 20, Palermo. L'ambata ricavata era il 52. Terzo colpo, 52 a Palermo. Proprio prima della chiusura delle estrazioni che ben conosciamo. Andiamo al 19 marzo. 19 marzo. Spia 20, Napoli. Abbata secca, 32. Qui l'abbiamo al secondo colpo, però andiamo già a maggio. Il 32 sulla ruota di Venezia. Eccolo qua. Perché, diciamo, dopo l'interruzione delle estrazioni, questa era la continuazione dei colpi. Andiamo al 19 maggio. 19 maggio. Abbiamo la spia 20, Napoli. Quinto di Roma più 72 per ricavare l'ambata. Ambata secca, 4. Ambata secca, 4. L'abbiamo al primo colpo a Venezia. 21 maggio. Spia 20, Palermo. Lambata era il 19. Quinto colpo, 3 giugno. 19 a Palermo. E così via. Vediamo, per esempio, alcuni degli ultimi esiti. Andiamo, per esempio, al 29 agosto. Vediamo un po'. Il 29 agosto abbiamo la spia 20 sulla ruota di Napoli. Quinto di Roma più 72, avevamo il 90. Al quarto colpo, l'8 settembre. Vediamo l'8 settembre. C'è il 90 a Venezia. Andiamo, per esempio, al 12 settembre. 12 settembre. 12 settembre, spia 20 a Napoli. Quinto di Roma più 72. Ruote di Palermo-Venezia per 6 colpi. Lambata era il 17. Sesto colpo. 26 settembre. 17 a Palermo. 19 settembre, spia 20 a Napoli. Quinto di Roma più 72. Ambata 65. 24 settembre, 65 a Palermo. L'ambata la possiamo giocare anche in quarta e quinta posizione determinata. Ma adesso veniamo a noi. Vediamo un po'. Veniamo al mese di ottobre. E' il 27 ottobre. Quindi l'estrazione di ieri, di martedì. Guardate che cosa ci ha portato. Un doppio venti, una doppia spia, addirittura isotopa. Quindi addirittura nella stessa posizione. Questa è una condizione di gioco fortissima. Prendete il metodo completo. Perché intanto vi rimane. Sono spie che vi rimangono. Sono spie sempre valide. Sapete benissimo, conoscete ormai i miei metodi spie. Le mie spie quanto sono potenti. E non sono metodi che li giocate adesso, poi li cestinate. Sono metodi che potete sempre utilizzare. Ma avrete gli abbinamenti per ambo secco. Quinto di Roma, più 72, abbiamo l'ambata secca, 26. Io vi do il 26 a partire da giovedì 29 ottobre. Massimo sei colpi. Palermo-Venezia. Segnatevi Palermo-Venezia, 26. Eventualmente quarta e quinta posizioni. Vi consiglio di prendere il metodo completo. Ma vi consiglio di prendere tutte le spie a speed che presento. Perché sono delle spie molto potenti. Attentamente studiate. Sono selezionate perché vado a fare anche un confronto sugli esiti. E questo metodo in particolare, negli ultimi 20 casi spie, quindi le ultime 20 volte che il 20 si è presentato sul Napoli-Palermo, ha pagato 23 ambate secche e 22 ambi a ruota. Quindi 22 ambi su 20 casi spia. Quindi attenzione alla previsione per ambo secco con il 26 capogioco Palermo-Venezia. Vi attendo all'indirizzo e-mail che come al solito trovate in descrizione per l'acquisizione del metodo completo in grandissima promozione. Mi auguro che andremo a realizzare una bella vincita, sia con questo metodo, sia con la Spia 58 già presentata. E per adesso, un saluto a tutti, Mister Sbancolotto. Grazie! Grazie a tutti.